Presidente, lei ha lamentato che appunto dall'America sono preoccupati forse più dell'Europa che non della Siria. Può commentare questo spesso? No, non mi pare che si sia parlato di questo. Sono usciti parecchie indiscrezioni sulla stampa che ha detto che Obama sarebbe forse più preoccupato per lo Stato dell'Europa, per il dossier Europa, così detto, che sono solo delle indiscrezioni. Mi perdoni, ma non abbiamo parlato di questo. La visita dal Presidente degli Stati Uniti è stata una importantissima visita, molto importante, molto significativa. Le parole che il Presidente Obama ha detto sull'Europa io le condivido tutte, ma sono le parole che avete sentito in conferenza stampa al Rose Garden. Quindi io condivido con il Presidente Obama che dobbiamo insistere sulla crescita e non solo sull'austerity, che dobbiamo investire su un modello di mondo basato sul coraggio e la paura. E non sulla paura, ma tutto il resto mi sembra che non è stato oggetto di discussioni quest'oggi.